Diversamente da come potresti pensare, i romani, anche se erano grandi estimatori del vino, non lo trattavano per niente bene. Infatti utilizzavano gli ingredienti più disparati per rendere il vino raffinato, come ad esempio il miele, l'acqua di mare oppure le ostriche tritate. L'origine della viticoltura romana ha radice autoctone. Con il passare degli anni ha colto tratti etruschi ed infine in piccola parte dai greci. Molto probabilmente però gli antichi romani hanno appreso dai greci avanzate tecniche per coltivare. Il vino nell'antichità, fino al periodo repubblicano, poteva essere degustato solamente da maschi che avevano più di 30 anni. Deve sapere che invece le donne passavano dei guai se erano scoperte a bere dei propri mariti. Se l'uomo durante un bacio con la propria moglie percepiva un sentore di vino, aveva la libertà di punirla senza conseguenze, in quanto aveva trasgredito le regole. Questo divieto è stato abolito da Giulio Cesare e così la moglie del principe Augusto, Livia, scrisse di aver vissuto una lunga vita grazie alla presenza del vino consumato durante i suoi pasti giornalieri. Sicuramente saprai che i romani avevano delle conoscenze e dei segreti che custodivano gelosamente per coltivare e vinificare. Questa saggezza l'avevano appresa dai cartaginesi, dagli etruschi e dai greci ed erano riusciti ad unirla al loro senso di business. Infatti tutto ciò doveva essere studiato, organizzato e produttivo. Così sono state create le famose piantagioni specializzate e a conduzione schiavile, dove venivano coltivati gli ottimi vini del passato. Dalla campagna di quell'epoca avreste potuto trovare il Vinum Falernum. La bontà di questo vino non è solo opera dell'uomo, ma bensì anche del territorio in cui si trovavano le vigne. I romani costruirono terrazzamenti in grado di drenare l'acqua, così da conservare solamente quella necessaria e raggiungere la giusta quantità di umidità e calore. Come puoi ben leggere dai reperti trovati in giro per il mondo, il vino romano veniva esportato dalla costa che si affaccia sull'Adriatico verso la Grecia, specialmente dalle vigne di Atri, Ancona e Praetutti. La qualità più prestigiosa era ottenuta invecchiando il vino al sole oppure in soffitta, ma la maggior parte di essi proveniva da vigne meno pregiate. Di conseguenza, per trasformarli in vino di alto livello, venivano allongati con gesso, resina, acqua marina e sale. Un vero e proprio mix unico nel suo genere, fortunatamente. Delle volte, per migliorare questo vino, già dai tempi antichi si inventavano i metodi peggiori per guadagnare denaro, veniva tagliato con aromi vari oppure mieli aggiunti al mosto. Il vino prodotto dai romani potevi trovarlo di tre categorie principali, differenti tra loro. Candidus, bianco, Rosatum, ovviamente rosato, oppure Atrum, rosso. Racconti dell'epoca che ti hanno lasciato agli antichi descrivono vini mielati, corretti solamente con il pepe, in modo tale da conservarlo per lunghi periodi di tempo.